Benvenuti in questo mio nuovo video, andiamo a vedere dove trovare la stella segreta della settimana numero 4 La stella segreta si troverà nella parte della giungla, all'incirca qui, guardate Ecco, comunque questo video finisce qua, spero che ti sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornati su Fortnite Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenta e condividi, noi ci vediamo in un prossimo video Ciao